Far lavare i denti ai tuoi bambini è una vera e propria Mission Impossible! Alleati con Iris Compagnia Odontoiatrica e scopri il potere della prevenzione! Per i più giovani, prendersi cura della propria bocca nel modo corretto non è facile. Per questo la carie può essere un evento molto frequente durante l'infanzia e l'adolescenza. Sapevi che i denti da latte cariati possono danneggiare i denti permanenti? Ecco perché è importante programmare controlli periodici, utili a individuare precocemente i segni di carie, ma anche eventuali anomalie nello sviluppo dei denti. Sapevi che l'allineamento dei denti condiziona la masticazione, la respirazione e il modo di parlare? Pertanto intercettare in tempo eventuali disarmonie nello sviluppo delle arcate dentarie rende più facile correggere il problema. Per questo Iris Compagnia Odontoiatrica ha ideato Zero Carie. Il programma Prevenzione a misura di famiglia. Il programma Zero Carie è rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, costa 40 euro e include cecapo dontoiatrico, igiene orale, sigillature dei solchi dei denti permanenti, trattamento al fluoro, kit igiene orale. Fai crescere il tuo bambino con un sorriso sano e forte. I nostri esperti ti aspettano in Toscana e in Liguria. Scopri come aderire al programma Zero Carie e prenota subito la tua visita.